carissimi amici e amiche benvenuti a una nuova puntata questa numero 21 del ciclo di catechesi dedicato al libro di tenera amata siamo nel cuore del nostro testo siamo un pochino più della della metà e ci siamo lasciati la volta scorsa con la domanda ecco tipo conclusione di quelle serie a vincenti ecco che alla termine della puntata lasciano la suspense per la seguente no cennavo che tenera amata avrebbe raccontato il suo funerale quindi come aveva visto il suo funerale dopo essere morta quindi il che ci fa comprendere come anche noi vedremo il nostro funerale io sinceramente pur senza conoscere tenera amata arrivandoci un pochino però con la fede comune con la fede normale sendo sacerdote parroco quindi immaginate quanti funerali possa aver celebrato spesso e volentieri anche per stimolare un po la fede dei presenti e dei fedeli dico guardate ragazzi che qui il defunto ci sta guardando la defunta ci sta guardando quindi sa chi è presente al funerale che ci siamo venuti a fare con che disposizioni stiamo e sicuramente ha cambiato un pochino modo di 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 vedere di di rapportarsi con con tante cose perché le cose importanti per quelli che hanno passato questa vita sono arrivate nell'altra sono ben altre rispetto a quelle che noi ci ci rappresentiamo come prioritario importanti no ho avuto modo di dire anche in altre catechesi che questa triste a mio avviso prassi dell'andare a fare poi al termine del funerale spesso tra l'altro pure in chiesa cosa del tutto inopportuna i saluti funebri da parte dei familiari io credo personalmente che sia una cosa che piaccia ben poco ai defunti perché la stragrande maggioranza di queste diciamo così chiamiamole cerimonie profane diciamo così laiche umane che si sovrappongono peraltro in maniera ripeto a mio avviso proprio del tutto inopportuna quella sacra sono molte volte delle per carità delle manifestazioni di affetto molto molto umano e a volte anche insomma di pane girici un po fuori luogo ecco nei confronti della persona trapassata credo che lo sentiremo anche oggi ci aiuterà anche tenere amata gli interessi delle anime che sono passate da questa vita all'altra sono ben altre su questo noi dobbiamo assolutamente credo come cristiani e cercare di fare un salto di qualità non possiamo non dobbiamo dare esempi di questo genere anche no vabbè ecco riprendiamo la lettura del testo e andiamo a vedere com'è stato questo funerale di tenere amate dato che tutti quanti saremo più o meno sulle sulle spine affinché tu possa capire tu possa meglio ammirare la quinta dimensione siamo per chi è il testo al capitolo 22 disse tenere amata ti racconterò ciò che mi accade dopo il mio giudizio particolare e prima di ricevere la glorificazione quando assistetti al mio proprio funerale nel cimitero di El Saucito El Saucito probabilmente questo è spagnolo quindi El Saucito che tu assistetti al tuo proprio funerale lo mandai pieno di stupore lei mi sorrise e nel suo gioioso volto di glorificata percepì un qualcosa di pietosa ed amabile indulgenza sembra che tenere amata dice lui si è stupito che vede il funerale questo è niente in confronto a tante cose che si vivono nell'altra vita sembra appunto con questo suo sorriso di pietosa ed amabile indulgenza insinuare tenere amata in un altro momento ti racconterò i tratti amorosissimi del nostro Dio durante la mia morte per il momento ti dirò che l'angelo che mi assistette in quel difficile passaggio mi disse adesso ti porterò al tuo seppellimento perché è necessario per il tuo purgatorio che acquisti la delusione generale di ciò che è peccaminoso e mondano attenzione eh e ricordate quello che ho detto all'inizio di questa puntata mi prese a braccetto e mi portò per forza senza che io potessi oppormi vedete il ruolo dell'angelo custode nel momento del nostro trapasso no? per il grande potere del mio angelo arrivammo senza che io potessi spiegarmi come alla porta principale del campo santo era appena arrivato il carro funebre col mio cadavere in una bara molto bella e contemplai i miei parenti ed amici senza che loro notassero la mia presenza dice Riccardo ma vedevi senza occhi? ma no, naturalmente guardavo con gli occhi corporali della fase biologica immediatamente anteriore alla mia morte reale qui, attenzione, qui arrivano mail, commenti perché pare che queste catechesi siano abbastanza seguite ma no, ma uno è morto? ma allora come fa ad averci ancora il corpo? è diventata, è già risorta oppure se l'è fatta da sola? ascolta se benedette catechesi poi ascolta le tutte e capisci penso che dovrebbe essere chiara a questo punto che l'eternità creata non passa d'accordo? per cui con quali occhi l'hai guardati? con quelli del mio corpo fino a quando è rimasto vivo basta un istante prima un istante prima della morte già basta questo non dimenticare che ogni atto di esistenza perdura eternamente nel proprio spazio-tempo e lo ridice un'altra volta perdura eternamente e se io quello spazio-tempo l'ho fatto con l'anima e col corpo lo rivivo con l'anima e col corpo anche se a un certo momento del tempo cioè quando arriva la morte la mia anima si stacca, si separa dall'ultimo istante di esistenza trasformando il corpo in cadavere perché non c'è più l'anima ma da quel momento in poi l'anima è separata dal corpo e il corpo è senza anima prima no e non è che con la morte capite si entra diciamo adesso io sono morto quindi ciò che è passato è passato come noi pensiamo sempre quindi essendo morta l'anima si è separata dal corpo quindi noi abbiamo sempre pensato così cioè essendo morta l'anima si è separata dal corpo quello che è dietro non c'è più e quindi comincia l'attesa della resurrezione della carne e per tutto questo tempo l'anima resterà separata dal corpo che non è del tutto sbagliato ovviamente attenzione ma l'anima resta separata non dal corpo da tutto il suo organismo integrale ma dal cadavere cioè dal momento della morte in poi non ha come dire l'assistenza del suo corpo ma quello che c'è stato prima sì capito questo concetto si capisce tutto allora torniamo guardavo non dimenticare con gli atto di esistenza perdura eternamente nel suo proprio spazio e tempo ti ho già spiegato che l'organismo totale dell'uomo familiarizziamoci con questi concetti organismo totale dell'uomo è molteplice perché abbraccia tutte le fasi dell'esistenza adesso lo rispiega è costituito dalla serie ininterrotta dei suoi atti di esistenza ma che ognuno di essi attenzione insieme col suo corrispondente spazio e tempo può separarsi dagli altri sebbene questo non si può fare durante la vita mortale capite che significa cioè nella vita mortale io non posso separare assolutamente i miei atti di esistenza dallo spazio e tempo in cui sono fatti cioè adesso sono le 21.46.53 del 20 gennaio 2023 io sto parlando sto facendo la catechesi su tenera amata mica posso prendere questo spazio e tempo e traslarlo in un altro in un altro spazio e tempo per esempio non lo posso fare ma dopo sarà possibile come tante altre cose abbiamo già visto fare a teleramati io mica posso prendere una pallottolina adesso di carta di cellofan e farci così con le mani per chi vede il video e poi glielo faccio mangiare e quel cellofan è diventata una leccornia celeste non so buono farlo adesso non lo possiamo fare adesso ecco ok ma dopo la buona morte l'organismo intero ormai libero dal legame della sua coscienza con l'istante attuale in questo senso la morte è una liberazione ti libera ce lo siamo detti tante volte dall'essere uno schiavo in catene come lo schiavo che sta alla galera fermo al timone noi non possiamo liberarci dalla schiavitù dell'istante attuale non possiamo andare né prima né dopo stiamo sempre vivendo nell'istante attuale e quando finisce una cosa bella non possiamo tornare indietro e quando attendiamo un'altra cosa bella non possiamo anticiparla prima del tempo e quando c'è una cosa brutta non possiamo farla finire oppure non possiamo tornare a prima che quella cosa brutta succedesse tu dici è ovvio questo qua certo che è ovvio però per capire bene la differenza tra quello che c'è e quello che sarà dobbiamo ribadire queste cose che evidentemente apparentemente sembrano ovvie dopo la buona morte l'organismo intero ormai libero dal legame della sua coscienza con l'istante attuale è in grado di agire coscientemente attenzione ed in modo differenziato con qualsiasi degli stati biologici della sua vita passata conservati fedelmente nella quinta dimensione e attenzione a quello che dice adesso che spiega perché i parenti non la vedevano pur lei ha visto l'ingresso del cadavere al campo santo con il corpo con gli occhi come i nostri e gli è possibile vivere in onde temporali molto diverse le onde temporali io per fare un esempio tanto insomma per far capire qualcosa anche se non è esattamente congruo perché le onde temporali sono proprio qualitativamente differenti dal nostro scorrere del tempo abbiamo visto i paratempi i picosecondi già eccetera però ci sono delle frazioni piccolissime del tempo che non sono percepite dalla nostra coscienza mi pare di aver raccontato nelle puntate precedenti qualcosa riguardo sui messaggi subliminali tempo fa feci un ciclo di carichesi sulla musica rock e il satanismo dove parlai anche di queste cose ci sono delle cose che sono in grado di influenzare la nostra coscienza a livello a livello incosciente cioè se in un film questo era un esempio antico mettono un solo fotogramma della bottiglia di coca cola tu un solo fotogramma non lo vedi adesso non mi ricordo per poter vedere anche un flash di un'immagine quanti fotogrammi ci vogliono se 4 10 o 12 non mi ricordo uno non lo vedi però avevano fatto gli esperimenti cioè avevano preso avevano fatto avevano fatto campionato che ne so 4 cinema in 2 faccio vedere dentro il film il fotogramma della bottiglia di coca cola e negli altri 2 no se in tutte e 2 aumenta il consumo di coca cola quelli dove si è visto il fotogramma e negli altri no vuol dire che questa cosa funziona inutile dirvi che ha funzionato ma quel fotogramma non l'ho visto perché la nostra coscienza non è in grado di percepirlo è una è una frazione temporale troppo piccola e il nostro occhio non la coglie allora perché non ti vedevano i tuoi parenti perché l'angelo e io ci eravamo situati in un'onda temporale diversa da quella del tempo normale della terra guarda questo è un bel esempio le onde delle emittenti radiofoniche si trovano tutte nell'area della città le frequenze radio normali non serve essere laureati in fisica neanche io ci capisco tanto bene di queste cose però con un po' di sforzo se ci sono 20 stazioni radio in modulazione FM che ne so radio DJ radio dimensione sua non so non so non ne conosco tante perché non la sento mai la radio però queste sono le più famose che ne so radio 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 mater trasmissione una volta al mese ecco quindi che succede che se io ho la radiolina a casa con l'antenna l'antenna chiaramente potenzialmente le capta tutte queste frequenze ma dipende da dove io mi sono sintonizzato se sto sintonizzato su una certa frequenza le altre non le posso sentire contemporanee allora questo è l'esempio che fa se loro stanno nello scorrere del tempo secondo il ritmo dell'orologio a livello di un secondo situato nella ordinarietà della circostanza della vita terrena e noi ci poniamo su una frequenza diversa non mi vedono io vedo loro ma loro non vedono me guarda le onde emittenti radiofoniche che si trovano tutte nell'area della tua città la tua radio capta solamente quella con cui è sintonizzata in modo simile i miei parenti ed amici con la loro coscienza vincolata al momento attuale questa frase vincolata al momento attuale speriamo che ce la siamo ormai imparata bene che ci fa capire anche la nostra condizione di schiavitù e di limitatezza proprio intrinseca con la loro coscienza vincolata al momento attuale vivevano nel treno di onde del tempo ordinario della terra invece il mio angelo ci muovevamo in un altro treno di onde temporale parallele ma non comunicanti con quelle dei viatori perché nonostante i movimenti ondulatori fossero di uguale frequenza qui chiaramente sta parlando proprio di concetti della fisica in senso stretto il mio ritmo temporale aveva un attimo di ritardo rispetto a quello dei mortali quindi i miei parenti non potevano vedermi nella differente ondulazione temporale in cui mi trovavo bello eh ebbene in un'altra occasione ti racconterò come soffri la delusione degli affetti mondani nel leggere nella mente di alcuni cari i loro veri sentimenti verso di me capite? cioè l'anima di un defunto riceve da Dio alcuni dei suoi poteri chiaramente no? ma noi dinanzi a Dio non possiamo fare non possiamo nasconderci non possiamo bleffare Dio ci vede i pensieri e il cuore e dobbiamo sempre chiedere a mio modestissimo avviso al Signore che ci dia la grazia di fare altrettanto cioè di imparare ad essere onesti con noi stessi e saperci porre in sincerità dinanzi al nostro cuore dinanzi ai nostri pensieri profondi dinanzi alle nostre intenzioni reali che se certe volte le guardassimo un pochino bene magari anche un pochino superando quel raccapriccio che si proverebbe però male non ci farebbe mi avviso perché non sempre le nostre intenzioni i nostri pensieri sono buoni anche quando noi non ce lo diciamo a noi stessi oppure siamo molto abili nel camuffarli comunque riprendiamo una lettura che adesso fa anche un po' sorridere io domandai all'angelo ma insomma dove sono qua fuori con te o dentro la mia bara lui mi rispose la tua anima spirituale con tutto il tuo intelletto e volontà può ubicarsi in diversi spazi tempi o unità della tua vita allo stesso tempo non essendo più legata al momento presente del tempo della terra in un modo coincidente e senza abbandonare il tuo organismo totale la tua anima è capace di godere il cielo oppure di continuare la tua purificazione qua sulla terra capite quale grande grazia è l'essere svincolati il problema non è che noi stiamo nel corpo no come pensavano i greci che il corpo è il carcere dell'anima non è il corpo il carcere dell'anima il corpo è una cosa bella il corpo è la come dire è la sacramentalità dell'anima cioè è ciò attraverso cui l'anima si esprime in maniera percepibile al prossimo il carcere è l'istante attuale la schiavitù ciò che ci tiene legati una volta che si esce da qui da questa dimensione dalla quarta e si entra nella quinta che succede che io in un modo coincidente quindi nello stesso tempo e senza abbandonare il mio organismo totale posso ubicarmi in diversi spazi tempi della mia esistenza e posso godere il cielo ovviamente con l'anima e continuare la purificazione qui sulla terra e però constatando questo per le prime volte te la ramata dice mi succedeva come a te in questo paratempo ero piena di stupore e di incredulità ma che sta siamo scherzi a parte ma che succede e l'angelo proseguì l'anima umana attenzione a motivo della sua essenza spirituale è indipendente lei dallo spazio dal tempo dalla materia e dalle energie è fondamentalmente radicata nella quinta dimensione o eternità creata insieme con qualsiasi degli spazi tempi del suo corpo totale può agire sia che si trovi nel cielo o in purgatorio o nell'inferno e in modo coesistente nelle parti ancora vive del suo cadavere qui entriamo in un passaggio abbastanza delicato e questo è il motivo per cui prendono i trapianti di tessuti trapiantati da un defunto ad un paziente l'accettazione biologica da parte del malato equivale alla sostituzione dell'anima anteriore con quella dello stesso paziente qui entriamo in un concetto un pochino difficilotto tenera amata com'è possibile che un'anima sia sostituita con un'altra risposta allo stesso modo come i gamberi che oggi hai mangiato si vanno incorporando i tuoi tessuti vivi l'anima di questi crostacei non spirituale benché immateriale sta lasciando di animare la loro materia viva al tempo stesso che il tuo organismo l'assimila e la fattua e appunto farla tua vuol dire che la tua anima l'accetta per animarla continuo a leggere poi spieghiamo proviamo a spiegare tutto insieme perché qui diventa un pochino complicato anche per il sottoscritto comunque andiamo avanti tuttavia il processo digestivo disfa le complesse proteine vive qui ci sono perché ricordo qualcosa qui dobbiamo ricordare questa gente colta capite amici cari questo lo sa che cos'è un processo digestivo io ho qualche riminiscenza di quello che accade tutt'altra la scomposizione della materia quindi dell'energia delle proteine è un macello studiarsi la funzione della digestione lui gli obietta dice guarda che il processo digestivo disfa le complesse proteine vive forse questa materia non è morta durante la digestione prima dell'assorbimento nell'intestino lei obietta la digestione non disintegra queste proteine fino a separare tutti i loro atomi essa si ferma a livello di molecole più semplici ma ancora vive cioè animate dall'anima del gambero in questo modo passano al sangue e arrivano alle tue cellule le quali selezionano ciò che loro conviene e lo assimilano cioè sostituiscono l'anteriore anima e materiale con la tua propria e il latte è bollito la carne ai ferri o le uova fritte conservano la vita li vivifica l'anima del rispettivo animale ma sicuro per esempio supponiamo che una vacca viene macellata nel mattatoio e si destina la sua carne a servire come alimento umano sentite la vacca è morta a livello della sua esistenza come organismo ma la sua anima immateriale e non spirituale continua unificando ed animando il suo corpo totale conservato per sempre nella quinta dimensione così come la materia viva del suo cadavere poi nel cuocere la carne una parte delle proteine si carbonizza e cessa di vivere il resto lo mangiano gli uomini la digestione della carne trasforma le proteine della vacca in aminoacidi che continuano a vivere così vengono assorbiti nell'intestino umano passano al sangue arrivano alle cellule e queste selezionano gli aminoacidi che a loro conviene quindi li assimilano cioè l'anima immateriale della vacca viene sostituita dall'anima spirituale della persona che si è mangiata alla bistecca allora a prescindere mi fermo un attimo a prescindere dalle competenze tecnico-scientifiche che si devono avere per capire bene questi processi no le molecole penso che tutti quanti sappiamo che sono una molecola è composta da due o più atomi l'atomo è la particella elementare della materia no le proteine gli aminoacidi il processo di assimilazione sono concetti abbastanza tecnici come spiegherà più avanti quello che Ettene Ramada sta dicendo è che non dobbiamo troppo facilmente abituarci a sganciare il corpo dall'anima perfino l'anima immateriale e non spirituale degli organismi non intelligenti quali sono quelli degli animali tutte quante queste come dire fusioni chiamiamole così assimilazioni se tu ti mangi la bistecca in quella materia viva è rimasta l'anima immateriale dell'animale ma nel momento in cui termina il processo di assimilazione l'anima dell'animale accettata dalla nostra anima sono tutte quante cose non ci rendiamo conto ma viene sostituita dalla mia anima spirituale che ho mangiato la bistecca attenzione naturalmente l'anima della vacca devo leggere un altro po' perché questo si capisce qualcosa l'oltanto alla fine per il fatto che è stata spostata dalla sua materia organica non si annichila né svanisce ma continua ad animare eternamente il suo organismo integrale che è presente ad eccezione del suo cadavere nella quinta dimensione perché ogni essere perdura senza fine sin dal momento che riceve l'esistenza insomma non è così facile la morte completa di un cadavere perché la materia organica continua vivendo fino a quando serve d'alimento o fino a che non imputridisce o viene incenerita attenzione a questo concetto non è così facile la morte completa di un cadavere la materia organica continua vivendo fino a quando serve d'alimento o fino a che non imputridisce o viene incenerita la putrefazione no? certo se un cadavere viene lasciato all'aria aperta non ci mette tanto a entrare in putrefazione no? sembrerebbe che la quinta dimensione esige l'esistenza delle anime infatti rispondete nella nata l'anima o principio vitale unificatore degli organismi biologici attenzione a questa definizione bellissima dell'anima che vale per tutte le anime quelle immateriali e quelle spirituali lo dovremmo già aver capito principio vitale unificatore degli organismi biologici è indispensabile per conservare eternamente la vita sia umana che animale e vegetale Platone non aveva tanto torto e qui facciamo pure un riferimento a sapete che Platone parlava questo è abbastanza noto però dell'assoluta superiorità dell'anima rispetto al corpo cioè in maniera anche eccessiva esorbitante quindi non aveva tanto torto perché senza l'anima che è il principio unificatore non si conserverebbe né la vita umana né quella animale né quella vegetale già i classici già Platone e Aristotele avevano distinto distinzione che poi viene accettata anche da Sant'Omaso in ambito cattolico tra l'anima vegetativa quella delle piante l'anima sensitiva la chiamavano così l'anima degli animali e l'anima spirituale che è la nostra si chiama appunto spirituale perché ha le facoltà spirituali è spirituale quindi ed è in quanto tale capace di intelletto di libera volontà e quindi in quanto tale capax dei dicevano anche i classici capace di Dio quindi capace di conoscerlo e di vivere genuione con lui in questa vita per mezzo della grazia e poi di vederlo a faccia a faccia nella visione beatifica nella gloria cosa che non è propria né delle anime sensitive cioè degli animali né di quelle vegetative cioè delle piante la tua ignoranza e il legame che vincola la tua coscienza col momento presente ti fanno vedere la morte i cataclismi le guerre le catene alimentari le carestie come tragedie irreparabili e adesso attenzione a quello che dice ma tutto questo ha un misterioso e profondo senso di beneficio che si intravede soltanto dal piano della durata senza fine questi esseri continuano esistendo non nel tempo presente ma nel tempo passato della quinta dimensione altrimenti sarebbero degli enigmi assurdi ed incompatibili con la sapienza divina e l'intelligenza umana allora sentire queste cose credo amici miei cari ci dà un piccolo aiuto un piccolo aiuto perché è un piccolo chiarimento ma un po' complicato come abbiamo ascoltato però qual è il senso e qual è l'importanza di queste anotazioni non giudicare mai ma questo non dobbiamo farlo mai per nessun motivo Dio e il suo operato ah è successa una tragedia ah è successo un cataclisma una guerra ah se Dio esistesse non la farei non avrebbe mai permesso una cosa del genere discorsi abbastanza diffusi non soltanto da uomo della strada no? ma che dici? ma come fai tu a giudicare su una cosa di questo genere che tu non capisci quasi un tuborg scusatemi l'espressione un po' un goliardico ironica fino a quando stai così noi non capiamo niente non sappiamo quasi niente siamo rimasti abbastanza storditi da questa digressione erudita di tenera amata sugli scambi e sulle commistioni addirittura sulle assimilazioni anche delle anime dice vabbè non ci ho capito un gran che vabbè facciamo che questo basti per stupirti un po' quella che parla è una creatura non è il creatore passate in un'altra dimensione che è quella diversa che si vive dopo che si cessa lo stato diviatore lei capisce si rende conto di cose e prova a spiegarle che per noi sono arabo ma questo che ci fa capire che dobbiamo imparare ad essere un pochino più umili tutti quanti cioè ad essere molto consapevoli dei nostri strutturali limiti tu puoi essere tutto il genio che ti pare puoi essere tutto l'Einstein che vuoi puoi averci 500 lauree pure 2000 non è possibile avere 500 lauree 2000 però per dire iperbolicamente tu sempre tu sempre rimani limitato tu sempre non capisci quasi niente non sai quasi niente lei ha citato Platone a me a questo punto cito per parcondiccio Socrate Socrate aveva il grande motto quello che era stato il principio della sua ricerca so di non sapere o ma magari lo facessimo nostro quante volte ho detto in tanti interventi che San Tommaso d'Aquino insomma il più grande teologo forse di tutti i tempi uno dei geni più grandi che si è mai esistito continuava a ripetere che la forma più alta di conoscenza di Dio che si può avere in questo mondo è essere consapevoli che per quanto possiamo pensare di aver conosciuto e quindi dire di Lui questo è assolutamente niente in confronto a ciò che Egli è e sentite cosa aggiunge Tentena la madre riprendo il testo d'altronde questa sostituzione di un'anima per un'altra è un risultato piacevolissimo dell'amore universale che intreccia meravigliosamente tutte le creature io sapevo per mezzo di uno dei miei figli che studiava medicina che i cadaveri umani si conservano in frigorifero nel reparto di anatomia quindi domandai al mio angelo se l'anima del defunto rimane molto tempo nel frigorifero risposta dell'angelo l'azione dell'anima può durare parecchio ma ciò non fa niente perché l'anima non ne sente dolori né molestie non devi pensare che lo spirito umano rimanga prigioniero del cadavere rinchiuso nel frigorifero e tremando di freddo qualcosa del genere succede con gli animali e le piante sebbene sia un grado molto inferiore a quello dell'uomo la loro anima o principio vitale ed unificatore che ti ripeto è immateriale ma non spirituale mantiene la vita di tessuti o di organi separati dal resto dell'organismo così avvenne per esempio col cuore di pollo dell'esperimento di Alexis Carrell io non conosco questo esperimento si potrebbe andare a fare una ricerca veloce sul web quel cuore visse isolato con minuziose cure di laboratorio durante molti anni l'anima immateriale di quel pollo conservò la vita al suo cuore fino a quando gli mancò ossigeno per una distrazione degli aiutanti dice povera anima del pollo per anni racchiuse in un dispositivo di laboratorio risposta l'anima di quell'animale mantenne la vita al suo cuore con molto piacere perché ogni vita è un grande regalo del nostro Dio sì so che cosa stai pensando che ti sembrerebbe più comodo che ogni tessuto che ogni organo avesse la sua animetta propria anche se l'organismo risultasse una specie di colonia di anime ma non è così il Signore ha stabilito che ogni organismo possegga in quanto individuo una sola anima che lo unifichi e governi in tutte le sue funzioni così come nella perpetuità della quinta dimensione facciamo un sospiro capisco questo è un passaggio molto difficile difficile del testo di Tenera Amata io stesso confesso che qui mi trovo intuendo qualcosa ma non comprendendo perfettamente tutto quello che ha spiegato perché le mie riminiscenze a parte che le mie riminiscenze anche diciamo così scientifiche sono limitate e perché qui si parla di processi come già ho detto che per noi sfuggono completamente alla nostra capacità di rappresentazione quindi qui prendiamo atto e cerchiamo un attimo di ricapitolare alcuni concetti fondamentali quelli che possiamo più o meno ritenere no? l'anima è il principio unificatore degli organismi viventi quindi lo è di tutto l'organismo di un vivente fino a quando in qualche modo rimane vivente cioè rimane materia organica quindi non viene putrefatto o incenerito attenzione non dobbiamo immaginare il discorso che questa cosa frazioni l'anima a tempo indeterminato ok? perché il principio unificatore è sempre uno l'anima è una i nostri organismi sono molteplici ma l'anima è una il principio unificatore e ci sono dei rapporti come dire di fusione addirittura di sostituzione delle anime che avvengono nei processi di alimentazione noi mangiamo gli animali ragazzi cioè se io mi mangio il pollo il pollo è un animale se mi mangio una bistecca la mucca è un animale se mi mangio il pesce il pesce è un animale e quindi e quindi fino a quando c'è questa sostanza ancora organica dove l'anima è presente quando avviene il processo di assimilazione quindi di del mangiare avviene questa sostituzione dell'anima di colui che riceve che assimila quella ricevuta e questa è un'operazione direttevole pensare ad addio anche se adesso noi credo che non ne possiamo conoscere o comprendere un granché andiamo un pochino avanti capitolo 23 rimasi contemplando la mia bella beata e compiacendomi nella passione amorosa che mi ispirava adesso qui si cambia registro e qui si torna a volare un po' dopo questa parentesi di concetti abbastanza elevati sentivo la forza di questo amore così completo e così chiaro come ben corrisposto ovviamente sereno fiducioso e sicuro più perfetto ed equilibrato del mio contraddittore amore infantile verso di lei quanto mi sarebbe piaciuto conoscere i lineamenti del suo carattere glorificato ma è come lei mi spiegò gli occhi dei mortali percepiscono appena ciò che appare in superficie non sono in grado di guardare nella profondità essenziale delle persone laddove risiede la loro maggiore bellezza e si accontentano delle vaghe impressioni dell'aspetto esterno o qui però mi si permette di dire qualche cosina che dipenderà dal fatto di essere sacerdoti personalmente credo non evidentemente di saper guardare la profondità essenziale delle persone ma lo sguardo attento di un sacerdote secondo me almeno per quello che mi sembra comincia ad essere capace di almeno superare il livello superficiale cioè di vedere anche dietro la la crosta anche nell'incrostazione no che che ogni essere umano si porta dietro quella bellezza nascosta di quell'anima che spesso neanche la quasi sempre nemmeno la persona direttamente interessata percepisce o intuisce quante persone sono depresse si disprezzano si 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 non dobbiamo mai fare cose di questo genere mai per nessun motivo cioè tutto quello che è storto e che non funziona in noi non dipende da mancanza di bellezza intrinseca ma dipende qui ci trasferiamo in un altro livello ma dalla nostra volontà umana dalla nostra e da quella di chi ci ha qualche modo roteato intorno no e che ci ha condizionato continua Riccardo nel cielo mi prenderò però la rivincita contemplando e prendendo possesso all'ineffabile modo celeste di tutte le sfumature della sua personalità gloriosa ben mi rendevo conto prosegue sempre lui che l'amore è inspiegabile ma perché mi sentivo così sicuro del mio primo amore a che si doveva quella certezza così forte e così stabile e adesso sentite perché mi ami? mi domandò ti amo per la tua bellezza per la tua radiosa giovinezza per la tua attrattiva personale per no amore mio mi interruppe sentite come la chiama lo chiama amore mio questo non è il motivo principale tu ed io ci amiamo perché il nostro Dio così lo ha stabilito stiamo a mio avviso entrando in una delle parti più belle del testo sentite il nostro amore è programmato sin dall'eternità assoluta dell'altissimo il Signore ci ha vincolati mediante qualità di forte attrazione reciproca e legami di mutua complementarità fisica e spirituale amici ricordate che queste due persone sul pianeta terra si sono incontrate sarà stata una mezz'oretta un'oretta forse nemmeno sicuramente per il canto di quella canzone dopodiché non sono viste più eppure tra loro c'era questo e questo si manifesta in questo momento in questo in questo in questo paratempo cosa dice tenera amata in questo paratempo appena intravediamo questo magnifico vincolo tu non riesci ad osservare le qualità che mi diede l'altissimo e per adesso non devo manifestarti tutte le mie attrattive tu mi vedi come da molto lontano e non riuscirai a comprendermi neanche io attenzione posso contemplare i doni che ti ha dato il creatore così come si trovano nel tuo futuro e segreto nome nuovo che mostrerai nel cielo avete capito non soltanto Riccardo non può ancora vedere la bellezza di tenera amata perché lei è già glorificata lui è ancora aviatore questo ci arriviamo no ma neanche io posso vedere la tua bellezza profonda perché tu stai ancora qui e non ti è stato ancora rivelato il nome nuovo e non lo vivi ciò che il nome nuovo significa cioè la tua profonda identità la tua profonda bellezza la rivelazione e la rivelazione di tutte le tue più profonde attrattive che il Signore ti ha donato ha seminato in te che fanno di te un unicum che faranno un unicum di te nel tuo rapporto con Dio ma che faranno anche un unicum di te nel tuo rapporto con tutti quanti gli amori che il Signore ha stabilito che tu non conosci e che viverai nell'eternità creata e nella quinta dimensione e nella vita eterna prosegue tenera amata le misere tracce del peccato del mondo offuscano il talento la nobiltà e il vigore che il nostro Dio ti ha concesso questo vale per tutti il nostro talento la nostra nobiltà il nostro vigore fino a quando siamo qui si vedono poco a volte molto poco dipende da quanto ci siamo impastati col peccato ma anche se non ci siamo troppo impastati col peccato personale proprio c'è comunque il peccato del mondo allora nonostante ciò andremo scoprendo e godendo a poco a poco il nostro amoroso legame in cielo d'accordo con la nostra piccolezza di creatura umane per questo abbiamo a disposizione la gloria cintentale e la quinta dimensione l'amore umano sulla terra è come una pianta di serra che soffoca con lo smog del male morale ma che si adatterà allo splendido ambiente ecologico del cielo e qui Riccardo fa una lunga digressione se l'amore è un disegno divino pensai a ragione risulta inspiegabile agli umani mortali e invece credevo di essere io la causa principale dei miei sentimenti amorosi come ci inganniamo in questo mondo avete capito cosa sta dicendo questo vale per tutti noi le persone che noi amiamo le persone a noi particolarmente care ah ma io le amo perché mi sono innamorato è una cosa mia non è così ho innamorato anche in senso anche in senso ampio poi più avanti si tenera amata spiegherà anche perché in questo mondo esiste il matrimonio esiste il matrimonio monogamico e deve esistere il matrimonio monogamico quindi ci sono tutta quanto una serie di ulteriori ristrettezze blindature ineluttabili che non si possono superare fino a quando siamo in questo mondo bisogna aspettare la quinta dimensione eccetera però le persone che noi amiamo che si spera ce ne siano un po' le amiamo perché? perché Dio ha stabilito l'attrattiva reciproca d'amore non siamo noi la causa principale dei sentimenti amorosi prosegue incominciavo a comprendere che tutti gli amori onesti come tenera amata precisava provengono da Dio a ragione ho sbagliato ogni volta che ho preteso di forgiare gli amori secondo il mio capriccio un cumulo di ricordi affioravano nella mia mente aggiungendosi a sentimenti infantili che avevo appena rivissuto quelli della mia adolescenza carichi di speranza inquieta quelli della mia maturità sereni ma influenzati dalle mie anteriore esperienze vissute quelli della mia anzianità che in sintesi da Dio amalgavano tutti i miei affetti in un intenso amore verso la mia incantevole visitatrice con la speranza della vita futura senza frustrazione la bilocazione del mio corpo infantile non soltanto mi aveva rinfrescato la memoria ma ridotto la distanza della memoria fra l'infanzia e l'anzianità sembrava che si riunivano i principali eventi della vita sparsi in 48 anni ciò che si era sparso nel tempo si radunava in un tutto attuale vivente come preludio di future esperienze da vivere nel cielo il grande amore della mia vita resterò frustrato in questo mondo ma non nella patria oggi so che lei mi ama e che siamo vincolati mediante qualità d'invincibile attrattiva reciproca la mia amata insiste che io abbia pazienza ebbene si sono d'accordo dopo tutto quanto potrebbe durare ancora questa vita mortale per quanto possa sembrare lunga e penosa non vale di più l'immensa felicità del cielo e il domino del complesso materia energia spazio tempo eternità creata non sono gli obitori rassegna di speranza per i cristiani we gli obitori sono rassegna di speranza per i cristiani uno degli effetti che dovrebbe produrre la lettura di questo libro è che se qualcuno ha ancora un po' di paura della morte gli passi quello di cui dobbiamo avere paura è di vivere malamente perché se viviamo malamente la morte non segnerà l'inizio di tutta questa meraviglia ma segnerà la fine della rovina che è un'altra è tutt'altra cosa teneramata aggiunge magari disse lei interrompendo i miei pensieri il nostro Dio ti facesse dono nella tua vita immortale della convinzione profonda ed operativa dell'amore ricordiamo quante volte ha parlato delle convinzioni profonde operative se ciò fosse comprenderesti un po' ciò che è veramente l'amore creato e per analogia l'amore increato cioè l'amore personale con cui il nostro Dio Padre e il nostro Dio Figlio incarnato si amano nella loro Santissima Trinità al di là di tutto l'infinito convinzione profonda ed operativa dell'amore ci fermiamo qui adesso la prossima volta tanto per rifare un pochino di suspense sarà risolto il problema del dolore nel mondo dice tutte queste cose belle allora perché esiste il dolore nel mondo la prossima volta però intanto comprendere l'amore allora e qui c'è di nuovo un raccordo tra questi scritti e ecco perché era tradotto di Don Pablo Martín e il dono della divina volontà chi ha cominciato a capire qualcosa perché anche lì sembrano discorsi molto molto complicati non così complicati come quelli di questa sera che credo però dice una complicazione dovuta ad altre cose cioè a concetti teologicamente elevati a forme e modi di pregare del tutto atipici insoliti solo per dirne qualcuno ma la divina volontà è mistero di amore nella misura in cui si conosce l'amore e si comincia a percepire l'amore di Dio si conosce la divina volontà e viceversa nella misura in cui si entra nella divina volontà si comincia a conoscere a percepire e a vivere l'amore di amore per amore perché questo è se vogliamo quelle cose un pochino complicate che abbiamo visto questa sera quindi l'assimilazione delle anime è un processo d'amore perché profonda ed operativa dell'amore è la chiave che ci fa capire tutto e che ci ha tutte quante le porte è un dono da chiedere al Signore magari il nostro Dio ti facesse dono nella tua vita mortale della convinzione profonda e operativa dell'amore quindi chiediamolo al Signore e per quanto possibile facciamo il possibile mi si perdoni insomma è il giochino di parole per entrare nell'ottica dell'amore cominciare a cercare trovare accogliere e ricevere le innumerevoli attestazioni di amore che il nostro Dio ci ha fatto e di cui ha costellato la nostra esistenza questo è imparare a vivere un pochino nella divina volontà ci aggiorniamo alla prossima volta figlioli miei cari e che Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga